28 di luglio. Il 28 di luglio di tanti anni fa a Civitana Marche riuscì ad avere la patente per fare questo mestiere. Era un festival in cui c'era tutta l'intelligenza, tutti quelli che contano, gli opinion leaders. Feci tre o quattro pezzi, ma che bella città, saliamo insalvabile, uno buono, lo sfottò il presidente Leone. E arrivano i buoni. Quelli mi dettero la patente seduto stante. C'erano anche Claudio Rocchi, Claudio Lolli, un battiato. In effetti io qualche mese prima avevo fatto l'album Non farti cadere le braccia, ma giasceva nei negozi, le radio non volevano trasmetterlo e quindi il direttore Dal Gordi mi aveva licenziato. ho detto, tu fai l'università, prigliati la laurea e levati dai piedi. E invece a Civitana Marche riuscì ad avere la patente e a fare questo mestiere. Tra l'altro i prossimi giorni, il 6 di agosto, sarò ancora a Civitana Marche. Ci vado volentieri perché comunque è un posto che mi è caro. Civitana Marche.